Oggi siamo in una società tutta diversa in cui per mettere relativamente ordine nella rete di conflitti che si sviluppano c'è bisogno di una alleanza tra chi può cambiare e cioè chi è portatore di meriti, di competenze e chi deve cambiare per sopravvivere e cioè dei poveri e degli ultimi intervenire sulle condizioni di bisogno che ci sono nella nostra società. Forse il terreno più indicativo è quello della formazione del capitale umano dove oramai si è persa sia la nozione di merito che quella del bisogno. La politica, come è fatta adesso, si ispira ancora ai criteri della prima metà del 1900, nella migliore delle ipotesi della seconda. 500 anni fa Gutenberg scoprì la stampa, inventò la stampa. Martino Lutero la usò per fare la rifugia.